GF VIP, Manuel Bortuzzo Verissimo svela sia più Lulu se la sia dopo la burrascosa fine della loro relazione. Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello VIP, è stato ospite di Silvia Tofanina Verissimo. Il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. Il nuotatore, ferito alla schiena in una sparatoria nel 2019 cropporta ad essere costretto su una sedia a rotelle. È stato lontano dalle vasche per circa due anni. Ad oggi, però, è tornato a nuotare. Rincorrendo il sogno delle Paralimpiadi di Parigi del 2024. Sul suo ritorno, Manuel ha spiegato. Manuel ha poi ricevuto una sorpresa dagli amici nonché ex coinquilini nella casa di Cinecittà, Aldo Montano e Gian Maria Antinolfi. Attraverso un videomessaggio, i due hanno dedicato parole di incoraggiamento e stima nei confronti del nuotatore. Nello specifico, Gian Maria ha espresso il desiderio di poter far parte della sua vita per sempre, quello che mi auguro è di esserci sempre nella tua vita e che tu ci sia nella mia perché quello che mi hai insegnato lì dentro è non mollare mai. Non avevo nessun dubbio che tu ce l'avresti fatta perché la tua forza di volontà è immensa. Aldo, a seguire, si è complimentato con Manuel per il suo impegno, aggiungendo, Noi sappiamo perfettamente qual è la strada. Quanto lunga e difficile sia per arrivare ai risultati. Dopo aver ascoltato le parole dei suoi amici, Manuel ha detto. Riguardo la sua situazione sentimentale, Manuel ha rivelato di essere single. Aggiungendo di non aver più sentito Lulu Selassie, con la quale era nata una storia d'amore nella casa, poi finita. Grazie a tutti.